Brutte notizie per gli utenti degli ospedali abruzzesi per quanto riguarda il trattamento di alcune delle principali patologie. I dati provengono dalla Genas, Ministero della Salute, e sono pubblicati sul sito internet www.daily.wired.it nella sezione Migliori ospedali, dove si confrontano i dati dei principali ospedali della penisola. Per quanto riguarda l'ospedale San Salvatore dell'Aquila, il trattamento dell'infarto del miocardio con PTCA ha solo l'1,77% di recessi contro il 4,81% dei recessi di tutta la penisola. Per quanto invece riguarda l'indice di immortalità 30 giorni per l'ictus, il San Salvatore ha un totale di recessi del 15,11% contro la media nazionale del 9,94%, ben il 5,17% in più. Va un po' meglio per la riemissione dopo 30 giorni sempre per la stessa patologia, con un indice di decessi del 7,47% contro il 10,88%. Passando all'ospedale Santo Spirito di Pescara, tra i vari dati a disposizione spicca quello relativo alla mortalità dopo 30 giorni per l'ictus, con un più 3,4% di decessi per proseguire, con un più 2,58% di decessi rispetto alla media nazionale per il tumore gastroenterico ed un più 0,88% per il tumore alcolon. Ma il volo pindalico se le strutture sanitarie abruzzesi non finisce qui. Al Mazzini si muore di più rispetto alla media nazionale per l'infarto del miocardio senza angioplastica. Il dato qui è allarmante, visto che il totale dei decessi per questa patologia è del 25,68% contro il 18,18% del dato nazionale, con un più 7% di morti. Più 3,66% di decessi invece per quanto riguarda lo scompenso cardiaco e un più 5,04% di decessi per l'ictus a 30 giorni. Bene per la BPCO, la broncopneumopatia cronica ostruttiva riacutizzata, con un meno 5,49% di morti. E per la riammissione dopo 30 giorni per l'ictus, con un meno 5,81% su base paese. Va leggermente meglio all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, con un meno 2,87% di decessi per lo scompenso cardiaco, un meno 5,09% di decessi per la broncopneumopatia cronica ostruttiva, ma dove al contempo si registra un più 4,2% di morti per la frattura del collo del femore ed un più 2,18% di decessi per tumore al polmone. A questo va aggiunto anche un 4,15% in più di decessi per l'infarto delle miocardio senza angioplastica. Insomma, una situazione allarmante, almeno per quanto riguarda alcune di queste patologie.